amici di fano tv ben trovati un altro approfondimento in studio dedicato alla fanum fortune alias fano dei cesari dal 14 alla 17 luglio questa volta con anna maria montefusco buonasera e danilo filipponi buonasera buonasera a tutti allora la fano dei cesari la fano un fortune ha ragion d'essere grazie alla proloco ma grazie alle associazioni che comunque aderiscono e fanno parte comunque di questa macchina di lavoro imponente e importante che dà vita ad un evento straordinario sì appunto come come dici tu la fano dei cesari ha raggiunto dei numeri e delle una partecipazione così tanto importante tante persone che stare dietro solo per la solo con la proloco non si non ci si riuscirebbe quindi la proloco è quella che un po raccoglie tutte le associazioni ma fanno veramente parte tantissime associazioni di quartiere di categoria che si mettono in gioco per far sì che una manifestazione riesca bene nella miglior dei modi e soprattutto in sicurezza questo è fondamentale e grazie al lavoro sinergico di tutti voi prende vita un calendario ricco di appuntamenti che mi piacerebbe un po svelare anche al nostro pubblico a casa tantissimi eventi l'abbiamo visto anche nell'altra puntata e poi ne parlerà di più danilo su tutto su quello che verrà fatto dalle quattro fazioni di fano perché si divide in quattro fazioni la proloco accompagna e allestisce tutta la parte diciamo scenografica un attimino per la forza e il braccio operativo la proloco diciamo noi insieme a tutti gli amici supportata dagli amici e dalle associazioni appunto il venerdì dove sarà una giornata dedicata ai bambini perché fanno la città dei bambini e delle bambine ad esempio la sera ci sarà una cena il termopolium con un menù dedicato ai bambini un menù a misura di bambino e mentre il sabato verrà aperto il baccanaglia che è la cena mettiamo così la cena per le quattro fazioni una festa un po aperta a tutti possono prenotare le persone dopo danilo spiegherà esattamente come dove si potrà prenotare e la proloco cercherà di fare in modo che tutte le persone si sentano un po romane anche nel nel cibo e nell'ambientazione e poi arriviamo a domenica la giornata più importante della nostra manifestazione dove ci sarà un uno spettacolo equestre con con le bighe e la preparazione di questo evento che avverrà di che avverrà durante il giorno durante la notte tutta la giornata per riuscire a mantenere il nostro bellissimo pincio l'aria in senza nessuno senza rovinare questa questa bellissima aria ma renderla sicura per gli spettatori saranno lì tutti a vedere questo questo meraviglioso spettacolo delle bighe allora danilo abbiamo parlato di fazioni io direi di scendere nel dettaglio quattro fazioni per fano noi abbiamo infatti quattro fazioni fano si divide nella fazione del cinghiale del delfino del lupo e della volpe queste appunto vanno a racchiudere un po le quattro grandi aree di fano non sto a spiegare quali sono le fazioni perché sono veramente tante le fazioni di fano quindi il consiglio che vi do è andarvi a vedere all'interno delle pagine facebook noi abbiamo o una pagina facebook per ogni fazione dove li potrete trovare sia i riferimenti per vedere che fazione siete e soprattutto i numeri di telefono per partecipare a quelli che sono i tanti eventi e le tante manifestazioni di questo weekend che le fazioni organizzano infatti le fazioni oltre a fare la grande sfilata la domenica e quindi partecipare alla grande sfilata la domenica già dal già dal sabato e dal venerdì partecipano alla fano dei cesarini partecipano il venerdì partecipano il sabato alla grande cena il baccanalia che appunto si consiglia e consigliamo la prenotazione come diceva anna maria la prenotazione è consigliata e abbiamo quattro punti differenti per le fazioni per prenotare per quanto riguarda il cinghiale la kuwait situata a santorso per quanto riguarda il delfino il bar via vai in sassonia e la caffetteria garibaldi in centro per quanto riguarda invece il lupo e la volpe i due responsabili quindi luana riminucci per la volpe e massimo pierelli per il lupo per appunto prendere questi biglietti e prenotare la cena del sabato il sabato che è la giornata clou per le fazioni perché si sfideranno in quelli che sono i ludi delle fazioni quindi uno spettacolo che va a snocciolare da un punto di vista artistico il tema dell'anno 2022 della fanum fortune che sono appunto i popoli conquistati dai romani questi e questi momenti artistici poi proseguiranno con altri premi che verranno poi consegnati la domenica quindi oltre ai ludi fortune la domenica ci sarà la pompa magna quindi tutte le fazioni insieme ai gruppi storici coinvolgeranno al pincio e qui verranno premiate sia la miglior pompa magna quindi la miglior fazione diciamo la miglior sfilata di ogni di tra le fazioni che verrà premiato o un un personaggio che sarà caratteristico e diciamo coglierà l'attenzione dei giurati per all'interno del della sfilata il tutto in una cornice come diceva anna maria di un pincio che avrà più di 600 posti nelle tribune avrà circa 4 più di 4.500 persone di capienza tutto in sicurezza con più di 60 persone che lavoreranno alla sicurezza con circa 15 postazioni di sicurezza e di controllo e tanto 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 lavoro per far sì che una manifestazione di questo tipo possa essere bella ma allo stesso tempo sicura quindi ricordiamo ancora una volta al pubblico che ci segue a casa che per partecipare ci sono i social come appunto di riferimento come veicolo necessario per prendere i giusti contatti e altresì per la prenotazione delle cene poi ci sono idee plan anche su visit fan o insomma potrete trovare tutti i riferimenti utili quindi non non resta altro che invitare il pubblico a casa vuoi farlo tu danilo beh io direi che ci vediamo il weekend dal 14 al 17 e speriamo che siamo numerosi e che ci divertiamo questo è sicuro tra poco parleremo della fano dei cesari dedicata ai più piccoli intanto ringrazio i nostri ospiti grazie a te e si sa fano è la città dei bambini quindi la fanum fortuna è dedicata anche ai più piccoli benvenuto a fiero valori buonasera buonasera a tutti voi e benvenuto anche ad andrea simoncini che deve presentarci altri due ospiti buonasera anche voi si abbiamo bianca si e daniele vincitor dell'edizione 2018 si bene poi ci direte bene il dettaglio che cosa ha vinto eccetera eccetera allora piero iniziamo subito a parlare del programma dedicato ai più piccoli per la fanum fortuna e 2022 bene anche quest'anno ci si ripresenta l'occasione di fare la fano dei cesari dei cesarini in centro esattamente al pincio nato a sant'orso ma pian piano abbiamo conquistato il centro città niente il programma ormai è fatto sempre in maniera tale che cerchiamo di far divertire i bambini il più possibile facendoli giocare facendogli facendoli correre e in qualche modo tutto questo in collaborazione con la propria famiglia i propri genitori o chi per loro e quest'anno il programma prevede un incontro generale di tutte le fazioni parlando sempre di fazioni in piazza intorno alle 17 45 ci si incontra e poi dietro le tra virgolette famose bigliette si percorrerà il corso per avvicinarci alla zona del pincio attraversando l'arco attraversando l'arco poi i bambini e tutti noi verranno accolti dalla semachia elenon e dai greci che ci prestano la loro collaborazione ormai da qualche anno che li porteranno nel loro accampamento per fargli un po' di didattica questa didattica che nel giro di 5-10 minuti ci consentirà di organizzare i giochi di movimento per loro giochi di movimento che sono l'attente al minotauro e qui spero che i bambini stessi non si spaventino del minotauro che avranno davanti perché poi fa la sua figura insomma e di conseguenza questo gioco poi spiegheremo nel dettaglio a quel giorno ma si tratterà di sfuggire al minotauro che vuole da loro un fazzoletto che loro avranno in consegna Piero anche per far partecipare i bambini a questi giochi è necessario la prenotazione lo diciamo al pubblico a casa? Assolutamente no, per questi giochi sono completamente liberi, più bambini ci sono più ci divertiremo i bambini saranno una sorta di ondata, di freschezza, di gioiosità, di voglia di divertirsi che faranno su e giù avanti indietro dall'arco d'Augusto verso Porta Maggiore l'arena è quella con la sabbia e in questo correre affronteranno varie prove appunto quella del pauroso minotauro e quella di riempire poi in un secondo gioco delle anfore anche in questione di tempo chi riempirà di più le anfore con dell'acqua da prendere in partenza vincerà insomma dopodiché per farli un po' riposare perché a quel punto l'hanno corso in tanti li faremo sedere per godere di un piccolo spettacolo dell'Accademia dello Spettacolo che un attimino ci presenterà una loro performance a seguire e questo poi appunto ci permetterà anche di organizzare poi la corsa delle bighette dopo questa performance perciò avremo quattro batterie di quattro famiglie che dovrebbero corrispondere una ad ogni fazione quattro batterie dalla quale ogni vincitore potrà poi affrontare la finalissima la quinta batteria e poi vedremo quale fazione vincerà quest'anno appunto come ricordava il mio amico Andrea nel 2018 ha vinto la fazione del Cinghiale di cui faccio parte e ne sono fiero esatto adesso ne sono anche referente e avviso tutti non so se per la stazza o per la volontà la disponibilità che do e comunque a prescindere ritorneremo sulla falsariga della corsa delle bighe ma per i bambini ed è questa novità delle bighette che devo dire è venuta fuori a Sant'Orso grazie alle capacità, alla voglia del mio amico Andrea che l'ha costruita proprio di sana pianta dall'inizio e ancora rinnega il nostro incontro dopo gli impegni che gli ho dato dopo la corsa delle bighette ci sarà la possibilità di cenare come mi hanno detto chi mi ha preceduto e a seguire la premiazione premeremo più famiglie possibili e soprattutto chi vincerà la famosa corsa delle bighette a tal proposito diciamola questa cosa di Daniele che cosa ha vinto nel 2018 Daniele? Daniele ha vinto la gara delle bighette nel 2018 chiaramente il merito andrebbe ai genitori che adesso non andiamo a citare però ecco il merito suo è stato il coraggio di rimanere fermo nella sua bighetta fino a conclusione della corsa che è in un rettilineo abbastanza di 50 metri circa dalla porta di Augusto fino alla porta maggiore diciamo bene 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 premiazione per tutti e poi gran finale con un grande spettacolo veramente da vedere sicuramente sempre dell'Accademia dello Spettacolo che con noi ha sempre collaborato in tutto questo dobbiamo dire che la cosa funziona bene anche perché poi abbiamo la collaborazione dell'associazione Baby Party Topolino che anima un po' anche i bambini che non tutti magari correranno nei vari giochi ma ci sarà questa associazione grazie alla mia amica Lucia che li farà giocare e divertire in altro modo oltre ai greci che avranno un'arena tutta loro è tutto da scoprire, è tutto da scoprire una novità per quest'anno e poi questa è importante perché a differenza degli anni passati dove i cavalli erano rappresentati dai genitori dell'Auriga figlio quest'anno abbiamo deciso di allargare alla famiglia cioè viste poi tante le problematiche, il lavoro, le situazioni che si vengono a creare abbiamo deciso alla famiglia perciò di conseguenza vuol dire che i cavalli che trasporteranno il bimbo Auriga possono essere formati anche dallo zio, dal nonno ancora più bella la cosa se ci fosse una batteria di nonni con i nipoti insomma perciò abbiamo allargato un attimo la possibilità di far divertire più persone molto bene, allora io invito tutte le famiglie all'ascolto a partecipare davvero numerose ringrazio i miei ospiti ma soprattutto i piccoli grandi ospiti Bianca sei molto bella con questo abito da rievocatrice e grazie anche a Daniele nel suo abito piccolo, grande abito da rievocatore va bene? allora Piero abbiamo detto tutto quanto? sì, 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 penso proprio di sì e poi quello che non ho detto è giusto che lo vengano a scoprire assolutamente, grazie allora ai nostri ospiti, grazie a Riccardo Sora in regia dal 14 al 17 luglio vi aspetta la Fanum Fortuna, la Fano dei Cesari 2022 grazie dell'attenzione e arrivederci grazie a tutti